SELFSI, Spoken Easy Language for Social Inclusion Questo ufficio scrive testi facili da leggere e da capire, quindi io per lavoro semplifico testi quasi ogni giorno, però non ho mai letto ad alta voce un testo semplificato prima di oggi. Per me è una grande gioia poterlo fare qui oggi e spero di riuscire a parlare in modo chiaro, anche se questa non è proprio la mia specialità, perché tendo a parlare molto velocemente e a mangiarmi le parole, ma mi sforzerò. Circa un anno fa ho fondato un gruppo di lavoro sulla lingua facile, insieme a altre persone che lavorano nel settore della semplificazione linguistica. Questo gruppo di lavoro si è già incontrato cinque volte e non ha ancora un nome ufficiale. Il gruppo di lavoro viene moderato da noi di OK e dall'Ufficio per la lingua facile dell'associazione svizzera Troin Firmis. Oggi vi voglio parlare di questo gruppo di lavoro sulla lingua facile e delle sue attività. Spesso, parlando con colleghe e colleghi che scrivono testi facili da leggere, ci siamo accorti di una cosa. Spesso, le persone che scrivono testi facili da leggere in Italia non si conoscono. Questo è un peccato, perché così le persone non si possono confrontare e non possono condividere le loro esperienze. Ma il confronto tra i professionisti e le professioniste che scrivono testi facili da leggere è importante e la condivisione di idee e di esperienze ci aiutano a scrivere testi migliori, testi più facili da capire e da leggere e magari testi anche un po' più belli. Noi che lavoriamo nel settore della semplificazione linguistica abbiamo tutte un obiettivo comune. I nostri testi devono essere accessibili al maggior numero possibile di persone. Quindi i nostri testi devono essere facili da leggere e da capire. Per questo è importante che noi condividiamo le nostre idee e le nostre esperienze. E per questo abbiamo deciso, noi dell'Ufficio OK, di invitare a un incontro un anno fa tante persone che lavorano nel settore della semplificazione linguistica. Questo incontro è stato il 21 aprile 2022 e l'obiettivo di questo incontro era di fare conoscenza e decidere se e come volevamo lavorare insieme. All'incontro sono venute persone che scrivono testi facili da leggere, sono venute persone che fanno ricerca sulla lingua facile e sulla semplificazione linguistica all'università e sono anche venute persone che lavorano insieme o per le persone con disabilità. Questo primo incontro è servito per conoscerci e le persone che sono venute a questo incontro hanno detto siamo interessate a confrontarci e a condividere idee e esperienze. Siamo interessate a partecipare a un gruppo di lavoro sulla lingua facile. e il gruppo di lavoro si potrebbe incontrare ogni due o tre mesi. Il secondo incontro di questo gruppo è stato il 14 giugno 2022. I temi dell'incontro erano il percorso che porta a un testo in lingua facile e anche la semplificazione dei testi amministrativi e i problemi che sono connessi a questo tema. A questo secondo incontro abbiamo parlato di come nasce un testo in lingua facile. Esistono metodi di lavoro molto diversi ma tutte le persone del gruppo sono d'accordo su alcuni punti chiave. Prima di iniziare a scrivere un testo è importante capire bene per quale tipo di pubblico scriviamo quali sono le esigenze del nostro pubblico cosa vogliamo comunicare con il nostro testo. Per semplificare un testo molto spesso è necessario riscriverlo completamente. Infatti dobbiamo trovare e semplificare i punti fondamentali e se possibile dobbiamo tralasciare informazioni non fondamentali. Inoltre dobbiamo aggiungere le spiegazioni di tutte le parole che potrebbero non essere chiare. Per questo preferiamo parlare di riscrittura e non di traduzione di un testo. Quando non possiamo modificare la struttura e dobbiamo semplificare un testo frase per frase è difficile ottenere un buon risultato e i testi diventano molto lunghi. Inoltre all'incontro abbiamo anche detto che è fondamentale coinvolgere lettrici e lettori di prova nel nostro lavoro le lettrici e lettori di prova sono dei rappresentanti del pubblico per cui scriviamo il testo. Per esempio se scriviamo un testo per persone con difficoltà di apprendimento è importante che alcune persone con difficoltà di apprendimento controllino se il testo è abbastanza facile da leggere. A questo secondo incontro abbiamo parlato anche del linguaggio amministrativo. Il linguaggio amministrativo è il linguaggio che usano per esempio lo Stato, le Regioni e i Comuni. Il linguaggio amministrativo spesso è molto difficile da leggere anche per persone senza difficoltà di lettura. Questo è un problema grave perché spesso le informazioni importanti vengono date con un linguaggio molto difficile da leggere. E così le persone non possono informarsi bene e non capiscono cosa vogliono da loro le istituzioni. Per questo siamo convinte che le amministrazioni pubbliche devono scrivere testi più semplici. Questo serve anche a garantire la partecipazione delle cittadine e dei cittadini. In Italia ci sono stati diversi tentativi di semplificare testi amministrativi ma spesso la collaborazione tra i professionisti che scrivono testi facili da leggere e le amministrazioni pubbliche funziona male. Si tratta di un problema complesso e che ha tante cause. Una di queste cause è che i testi amministrativi sono molto precisi e le amministrazioni pubbliche pensano Anche nei testi semplificati ci devono essere tutti i dettagli ma così non è possibile scrivere testi facili da leggere. Secondo noi il testo semplificato non può sostituire il testo amministrativo. Il testo semplificato serve a lettrici e lettori soprattutto per capire due cose di cosa parla questo testo e dove posso trovare qualcuno che mi aiuta a fare queste cose. Durante questo secondo incontro abbiamo anche detto noi scriviamo testi facili da leggere che aiutano le persone con problemi della vita quotidiana ma le persone che hanno difficoltà a leggere hanno anche diritto a leggere altri testi per esempio storie e testi letterari per divertirsi o rilassarsi o testi per imparare cose interessanti. Sarebbe importante semplificare più spesso anche questi testi. Il terzo incontro del nostro gruppo è stato il 13 settembre 2023. Il tema principale di questo incontro era quali livelli di semplificazione possono essere utili. Durante questo incontro abbiamo parlato quindi del fatto che esistono diversi livelli di semplificazione linguistica. Ci sono persone con difficoltà di lettura molto diverse e per questo è importante scrivere dei testi il più possibile adatti al nostro pubblico. Se scriviamo per un pubblico ampio può essere importante scrivere testi di livelli diversi. Così ognuno può scegliere quale testo leggere in base alle sue capacità di lettura. Le persone con molte difficoltà di lettura possono leggere una versione più accessibile del testo e le persone con meno difficoltà di lettura possono leggere un testo che dà più informazioni. Però dobbiamo stare attenti perché se ci sono troppe versioni di un testo questo può creare confusione. Per stabilire il livello di difficoltà di un testo molte persone usano i livelli del quadro comune di riferimento europeo per le lingue. Il quadro comune europeo ci aiuta a capire a grandi linee quanto un testo può diventare complesso. Però questi livelli sono fatti per persone che imparano le lingue e forse non vanno sempre così bene per persone di madrelingua che hanno difficoltà di lettura. Il quarto incontro del gruppo è stato il 13 dicembre 2022. A questo incontro ci siamo dati due obiettivi. Quello di lavorare insieme ai testi per confrontare il modo in cui lavoriamo e quello di far conoscere di più la lingua facile in Italia. Per raggiungere questi obiettivi abbiamo deciso di tradurre l'articolo 21 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. L'articolo 21 parla del diritto di espressione e di informazione delle persone con disabilità. Quindi si tratta di un articolo molto importante per le persone che hanno bisogno di testi facili da leggere e da capire. E si tratta anche di un articolo molto importante per le persone che scrivono testi facili da leggere e da capire. Durante questo incontro ci siamo divise in piccoli gruppi e ogni gruppo ha semplificato una parte dell'articolo 21. E durante l'incontro successivo che è stato l'ultimo e che è stato il 28 aprile di quest'anno abbiamo discusso insieme di come completare il testo. È stato un incontro molto interessante perché sono state condivise molte idee e molti metodi di lavoro e siamo riuscite a finire di scrivere il testo. Però il testo è ancora una bozza perché non è stato ancora controllato da persone con difficoltà di lettura. Ma già oggi in sala potete leggere un poster con la bozza di questo testo. Presto, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi vogliamo far controllare il testo da lettrici e lettori di prova e poi vogliamo mettere il testo a disposizione del pubblico. Questo significa che tutte e tutti potranno usare questo testo. chiederemo solo di dire che il nostro gruppo ha scritto il testo. Oltre al poster con il testo nella sala penso che ci siano anche alcune copie del testo a disposizione di tutti. Speriamo che tante persone lo leggano e che ci dicano cosa pensano di questo testo. Ora voglio concludere il mio intervento dicendo che per me gli incontri del gruppo sono una cosa bellissima. Finalmente si mettono in condivisione idee e metodi di lavoro. Vediamo come lavorano gli altri e così possiamo migliorare il nostro metodo di lavoro. E vediamo anche che ci sono tante professioniste e professionisti per cui scrivere testi accessibili non è soltanto un lavoro ma anche una forma di impegno. Proprio perché ci sono questi valori condivisi gli incontri del gruppo sono sempre molto piacevoli e divertenti e noi speriamo che anche altre persone si uniscano al nostro gruppo. Se vi interessa partecipare al nostro gruppo scrivete a OK o a Proinfirmis. Adesso vi farò vedere gli indirizzi email devo condividere nello schermo. Noi siamo molto felici di accogliere nuove persone nel gruppo e gli indirizzi email a cui riferirsi se li trovo sono scusate sono questi qui. Quindi appunto se c'è qualcuno che è interessato a partecipare potete segnarveli penso che siano anche sul poster e scriveteci noi siamo felici di nuove partecipazioni. Da parte mia è tutto e vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Un caro saluto. Selsi Spoken Easy Language for Social Inclusion Partners are Zavod Risa RTV Slovenia Dislexif Bundet Università deli Studi di Trieste Vieglas Valodas Agentura Vilnjavs Universitetas Vši informacijo scavpimo ir sklajdos centras Funded by the European Union a L'Università deli Studi di Trieste